Buongiorno a Balazzizi per assistere alla giornata di recupero della quinta di andata a Genova 5 tra Ionio Casano e Accademia Conversano. Sconto al vertice termine, ancora una volta una grande perdita. Cominciamo a leggere le informazioni che stanno per scendere in campo, come sempre dagli ospiti Accademia Conversano, Buonossi e Fantasia. Cominciamo a leggere le informazioni che stanno per scendere in campo, come sempre dagli ospiti Accademia Conversano, Buonossi e Fantasia. Cominciamo a leggere le informazioni che stanno per scendere in campo, come sempre dagli ospiti Accademia Conversano, Buonossi e Fantasia. Grazie a tutti. L'alba 2. Buonossi e Fantasia. Mi intelligeremo a leggere le informazioni che stanno per scendere in campo, come sempre Giustizia Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.